e come fa l'orso come fa l'orso no fammi l'orso bravo amore bravo che mi fa l'orso bravo amici siamo in pausa qui a X Factor ci stiamo divertendo un botto il pubblico è andiamo a questa Siamo arrivati a McDonald's per un secondo e Miki è stato chocato nel mattino. Non è un po' crazy. Siamo arrivando a Vegas. Me e Vale stiamo facendo un'editoriale oggi. E' divertente. E abbiamo Luca e Miki. Grazie. Grazie. Fantastica fondamentale. Tante figa. Guarda che figa. La giacca di Elvis. Vi metto il link della mia risposta al ministro Franceschini a Siae qua sotto. Fate così per scorrere e informatevi sull'argomento perché è ora di rompere il monopolio ragazzi. Ho parlato di moglie del ministro Franceschini che gestisce gli immobili di Siae ed è sbagliato. Però è vero che la moglie di Franceschini lavora nello stesso gruppo che gestisce. Cioè il presidente della Siae non ha la più palida idea di chi gestisce gli immobili di Siae. Grazie. 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 E' molto bella. E' stato molte. E' stato quasi pao. E' venuto a con il pomeriggio di Tironi con questi due due ragazzi. Vi sono parte della mia mosaica a casa. Luca I'm back with my baby